guardiamo in alto, ci vieni vicino, ci guardiamo vieni vicino al primo piano ma tu stai là, devi stare là hai detto vieni vicino a me, non me lo pensavo a me allora rifai, vicino al primo piano noi ci guardiamo e ci giriamo di scatto ok ok, via mi chiede la Gioves azione no no bro lo prendi e lo metti in tasca e vai via così e vai via di là e quando dico azione entri e arrivi fino lì ok, poi faccio tutto io ok e azione non qui non qui ok, buona non qui, allora tu vedi il coso e lo ritiro, così si vede non qui ok, com'era? adesso prendi il libro in mano e ti cade quel foglio là aprilo ok, leni arrivi, cammini, piano, con calma quando arrivi qui esiti un po' dove sono io io ti guardo, ma tu non mi guardi? guardi cosa esiste un attimo, poi entri non qui, per il minuto e l'è lì faccio una bruca in base che non Dia sono spiantando quindi ricorda ti dico reazione e arrivi fin lì più che altro perché almeno se c'è qualcosa di buono vai vai mettilo buttalo solo dietro mi segui e poi mi giri mi fai proprio un primo piano tipo così che faccio il sorrisino com'è viene bene un po da bastardo inizio a venire avanti solo quando mi giro com'è ok come la cattiva da un po di fare un making of con tutte queste cagate oh senti sai cosa ti dico basta siamo qui che questo è un po un'antenna non neanche sono sei spicchi non dirmi questo non ci credo se l'entrata da qui no vabbè ampliamo per far rendere di più ecco cancellato ma però si può entrare si è tipo un parco giochi sembrava tipo l'acqua fa e azione ok vieni avanti la grata mi vedi avanza titubante allunga la mano ora ricordati con che mano l'hai presa io non mi ricordo ok adesso l'hai preso aspetta eh l'hai preso e ti cade eh subito e vai giù lo raccogli e sono sparito perfetto facciamo subito queste scale perché teoricamente lì si apre giù che dalla foto ecco ma che mi sei agganciato ok arrampicata velocità boomerang bollente intensità che cavolo fai beard 69 o in dic davan vacan cu två